Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a vedere i giocatori consigliati, sconsigliati e le scommesse da fare a livello di giocatori in un'analisi partita per partita per la prima giornata di campionato Facciamo attenzione perché si tratta di un nuovo format Il video infatti dello scorso anno prevedeva all'interno di uno stesso video l'analisi delle partite e l'analisi al fantacalcio Quest'anno ho separato un po' le due cose Fatemi sapere la vostra nei commenti, ditemi come preferite Preferite il vecchio format o il nuovo format? Per me è importantissimo sapere la vostra opinione, capire quale è la mossa giusta da fare per la community Quindi ragazzi lasciatemi un commento Non dimenticate anche il like che serve per supportare il canale Ma ricordiamo che il like ai video e dei consigli porta fortuna per il fantacalcio Quindi se vuoi vincere la giornata sicuramente il like una mano te la può dare Iscriviti al canale, te lo consiglio se ancora non sei iscritto Perché solo così non ti perderai tutti i nuovi contenuti che usciranno a tema fantacalcio In descrizione trovi tantissimi link per supportarmi Adesso direi di partire con la nostra analisi senza perderci troppo in chiacchiere La grafica è di Fanta Lab, il tool per l'asta perfetta che vi consiglio Il link per registrarvi gratuitamente è in descrizione Utilissimo ragazzi per l'asta, per la gestione della formazione Super consigliato quindi Fanta Lab Tantissime funzioni gratuite e ci sono anche le funzioni premium a pagamento Che se vi iscrivete con il mio link trovate anche scontate Ma adesso partiamo Prima partita, Empoli contro Verona, sabato 18.30 Abbiamo il vantaggio delle ufficiali La partita l'abbiamo analizzata già nel video precedente Quindi direi di andare abbastanza secchi sui nomi I nomi più importanti dell'Empoli sono principalmente Baldanzi e Caputo L'Empoli che non vive però un buon momento Potrebbe essere abbastanza giù con il morale Facciamo attenzione a Pezzella Giuseppe Che uno, non è detto che giochi da titolare Punto secondo, non ha convinto Né nel precampionato ma nemmeno nelle passate stagioni Quindi ci vado molto con i piedi di piombo su di lui E lo vado a sconsigliare per questa giornata Per quanto riguarda il nostro Verona Attenzione al modulo Perché dalla difesa 3 alla difesa 4 cambia veramente tantissimo Proprio per questo metto Doig come scommessa Di giocare Doig giocherà questa Il problema da Tarsino è poco appetibile Destano di centrocampo è super appetibile Attendiamo le ultime novità di formazioni Per decidere se schierarlo o meno Attenzione a Angonge Che sta veramente molto molto bene Lo inserisco fra le scommesse Mentre Mboulin addirittura da centrocampista Ve lo piazzo già all'esordio in campionato Come un giocatore consigliato per questa giornata Quindi attenzione ragazzi a Mboulin Che potrebbe essere la scommessa Che fa saltare il banco già alla prima giornata Seconda partita Frosinone contro Napoli Una neopromossa contro i campioni d'Italia in carica Ovviamente ragazzi C'è poco da dire Napoli super favorito Praticamente da schierare in blocco Io ci ho messo nella grafica dei consigliati Solo Quare e Osimène Ma i giocatori del Napoli Tutti coloro che giocheranno dal primo minuto Avremo le formazioni ufficiali Vanno messi Punto Non c'è da discutere Capitolo Frosinone C'è il rischio goleada Quindi Non mi fido veramente di nessuno In questo caso Nemmeno di caso Che è il nome un po' più appetibile Fantacalcisticamente parlando Da capire anche i rigori Di chi sono Quindi per il momento Per questa giornata Il Frosinone lo vado a schippare Ci sono ancora alcune situazioni Che voglio ben capire Andiamo adesso a Genoa Contro Fiorentina Facciamo molta attenzione Perché può essere una gara Molto molto combattuta A mio modo di vedere le cose Nel Genoa vado a sottolineare Soprattutto Gudmusson e Retechi Che sono i due leader offensivi Di questa squadra Attenzione a Martin Che lo piazzo tra le scommesse Sicuramente giocatore interessante Il ruolo è importante Esterno di centrocampo L'istato difensore Il Genoa È una squadra molto sbilanciata Anche Martin molto molto protagonista L'unico problema È che comunque Rischia di essere messo In difficoltà Fra il terzino E l'ala Della Fiorentina Quindi non gli si prospetterà Una partita difensivamente Facile Per Martin Per questo Non consigliato Ma scommessa di giornata Per quanto riguarda La Fiorentina Dodò Può essere Una scelta Molto affidabile Così come Biraghi Attenzione Ai tre quartisti Viola Soprattutto a Nico Gonzales Che l'ho visto bene Nel precampionato E potrebbe partire Con inizio sprint Okian Balanzola Appena arrivato Conosce benissimo Italiano Sa cosa vuole Può essere integrato Alla grande Sin da subito Quindi Inzola può iniziare Proprio come ha chiuso Passiamo ad Inter contro Monza Il Monza è stato Lo scorso anno La bestia nera dell'Inter Però facciamo molta Molta Moltissima attenzione Perché per me l'Inter Questa gara Non la stecca Se la porta a casa Diversi nuovi acquisti In campo Qualcuno molto consigliato Come Frattesi Qualcuno sconsigliato Come Turam Che non ho visto ben Nel precampionato Ma appunto Frattesi Insieme a Danfis E Lautaro Sono i tre nomi Che per me possono far meglio In assoluto In quest'Inter Comunque in generale I giocatori dell'Inter Possono essere schierati Praticamente tutti Al contrario I giocatori del Monza Anche nomi importanti Come un Ciurria Come un Pessina Come un Colpani Ad esempio Li andrei a valutare bene In base alle alternative Il Monza L'ho visto abbastanza dietro A livello di condizione Fisica Non mi fido tantissimo In questo momento Per questa prima giornata Se possibile Farei altre scelte Roma contro Salernitana Pesano le assenze Di Pellegrini e Di Di Bala Per squalifica nella Roma Quindi potrebbe essere Una Roma con meno fantasia Attenzione perché La Salernitana Squadra molto propositiva Fa bene in fase offensiva Da valutare quel Boulaye di A Che non è detto Giochi dal primo minuto Infatti per queste Nelle scommesse L'unico consigliato vero Della Salernitana In questo momento Antonio Candreva Che nonostante l'età Che avanza sempre più Ma è un giocatore Di classe Che ha trovato Nella Salernitana La sua dimensione ideale Soprattutto Paolo Sosa Lo fa giocare In un ruolo In cui riesce Ad esaltare Le proprie caratteristiche Quindi è lui Il vero consigliato Di questa giornata Della Salernitana Capitolo Roma Ci sono tanti nomi interessanti Partendo da Smalling Che può continuare A dominare Iniziare Questo campionato Quindi nel verso giusto Dominando in difesa Dopotutto mi aspetto Comunque una Roma Molto chiusa Dietro Potrebbe uscire anche Un classico 1-0 Murignano Quindi Smalling Può esaltarsi In una gara Del genere Da valutare Il nuovo acquisto Dica Come si comporterà Mancini Comunque giocatore da 6 Christensen Nuo acquisto Per me anche meglio Di Spinazzola Per questo esordio Potrebbe stupire In positivo A Huar Può essere però Quel giocatore Che fa la differenza Nella Roma Può essere Il Di Bala Il Pellegrini Della partita Il giocatore con fantasia Il giocatore tecnico Il giocatore Che deve far fare Il salto di qualità A questa Roma Anche senza Due giocatori importanti E quindi Lo piazzo come uno Dei possibili consigliati Di giornata Attenzione Schraui Giocata di tolare Si può schierare Ma soprattutto Va schierato il Gallo Belotti Forse Potrebbe anche essere La sua Prima e ultima Da titolare Di quest'anno Con la Roma Ad esempio Perché se arriva Zapata Un altro attaccante Belotti Dovrebbe in teoria Almeno accomodarsi In panchina Però stiamo a vedere Per me potrebbe Anche far bene Può essere la gara Giusta per il Gallo Belotti Sassuolo Contro Atalanta Una gara Storicamente Da tanti Tanti gol Però facciamo attenzione Perché Sassuolo Non l'ho visto bene Nelle ultime uscite Ha fatto male In Coppa Italia Ha perso L'Atalanta Sta aggiustando Qualcosina Sta prendendo Le misure Per la nuova Stagione Infatti a livello Di Sassuolo Vi consiglio comunque Di schierare Romberardi Anche se leggermente In dubbio L'orientelo Schiero Comunque Vi dico Sono I due nomi Insieme A Bairami Che andrei a mettere Certamente In questo Sassuolo Anzi Bairami Nettamente Il più In forma Fra i tre L'orientelo Ho visto Un po' sotto tono Ma una chance Le la do comunque Capitolo Atalanta Zappacosta Da mettere Sicuramente Baccar L'ho messo Tra gli sconsigliati Perché non l'ho visto Bene Nel precampionato Non sta convincendo Quindi Molta Molta Attenzione A Baccar Potrebbe volerci Un po' di tempo Affinché Giochi Come Gasperini Vuole Pasalic Kupmeinar Non li ho messi Nella tabella Consigliati Però sono giocatori Dall'alto potenziale Che io schiererei Comunque Al fantacalcio Lukman Scamacca Soprattutto Scamacca Da ex Da schierare Al fantacalcio Passiamo adesso A Lecce Contro Lazio Del Lecce Possiamo già parlare Di un nome In difesa Che vi ho consigliato Nel video di ieri Lato Pundice Se non l'avete visto Andatela A recuperare Che Dorgu Dovrebbe giocare Al posto di Gallo Che non è al meglio Facciamo molta attenzione Perché Da quel lato Il Lecce Può spingere tanto Può far bene Magari Dorgu Metterci Lo zampino Su un possibile Gol del Lecce Magari Con un assist Poi c'è Quello strefezza Che Si contenderà Il posto Tra l'esterno E il falso 9 Con Almquist Sicuramente Strefezza Non lo scopriamo oggi Un giocatore consigliato Per quanto riguarda La Lazio Altissima schierabilità Praticamente Di tutta La rosa Che troviamo qui Nella possibile Formazione Titolare Passiamo ad Udinese Contro Juventus Due squadre Che giocano Con lo stesso modulo Quindi a specchio I duelli individuali Saranno probabilmente Decisivi Pronostico a favore Della Juventus Ma facciamo attenzione Perché l'Udinese È una squadra Che storicamente Parte con il piglio giusto In campionato E infatti Ad esempio Un nome come Lovric Interessantissimo Per il fanta Va schierato Comunque Magari come terzo Quarto Nel nostro centrocampo E Beto Da scommessa Ci sta Inserirli La Juventus Però parte con i favori Del pronostico Attenzione Io vi segnalo Soprattutto Weah Che sta Molto bene E in forma Chiesa Che l'ho visto Anche lui Benino E Blaovic Che magari Riesce a partire Con il piglio Giusto In questo Campionato Ma ovviamente Un Kostic Ad esempio O i difensori Centrali Vanno comunque Messi al fantacalcio Prima delle due partite Del lunedì Torino Contro Cagliari Il Toro Gioca in casa E quindi si può ripartire Una sorta di certezza Il Toro in casa Destinato a far bene I tre difensori centrali Sono tre nomi Che io schiererei Al fanta Perché possono portarci Almeno nel 6 Nel caso di Scurso E Buongiorno Anche un 6 e mezzo Bella 9 Vovodà Quando i dadi esterni Possono far bene Ma attenzione Perché comunque Cagliari gioca Con un 4-4-2 Quindi saranno Ingabbiati Fra due giocatori Del Cagliari Dovranno essere loro Abili ad inserirsi E a far la gara Giusta Attenzione Bella 9 Da ex Magari Potrebbe avere Il dente avvelenato Vlasic Super consigliato Di questo Torino Il giocatore Più consigliato Fra tutti Visto che Ha fatto la preparazione In Premier League Quindi è più avanti Di condizione E infatti Non appena è arrivato Al Toro È arrivato da pochissimo Già ha fatto la differenza Negli allenamenti E nelle amichevoli Può partire quindi Molto molto forte Anche perché Cagliari Non lo vedo benissimo Non è al top della condizione Manca anche un leader Come la Padula Quindi Per il Cagliari Che è una squadra Che sì Non mola mai E lo abbiamo visto Tra playoff e Coppa Italia Però comunque Non mi aspetto Una gara facile Per il Cagliari Attenzione a Sanabria Dal Torino Che può ripartire Come ha chiuso Lo scorso campionato Vi segnalo Nel Cagliari Jacopo Biancto Che gioca come esterno Di centrocampo Potrebbe mettersi Ben in evidenza Anche perché Con Ranieri In passato alla Sampa Ha fatto molto molto bene In ottica fantacalcio E ci siamo Ultima partita Bologna contro Milan Diverse incognite In entrambe Le formazioni Per quanto riguarda il Bologna Vi dico Non mi affiderei A nessuno Fra i difensori Bocciati sicuramente Lucumia e Ligogianis Per questa gara Beckman Nuo acquisto Non ci punterei Per questa gara Partita comunque D'esordio Molto difficile Non punterei Nemmeno su Posch Che comunque Non avrà un avversario Facilissimo Da affrontare Come Pulisic Orsolini Leggermente dubbio Da schierare Con copertura Ferguson Io lo rischierei comunque Perché lo scorso anno Ha dimostrato Di essere un giocatore Che comunque Il suo Sei a casa Anche quando Non segno Quando perde Ce lo può portare Tranquillamente Dirk Dai magari Una scommessa Valida Per questo turno Per quanto riguarda Il Milan Possiamo fare Abbastanza affidamento Sulla linea Dei difensori Sicuramente Ovviamente Con delle gerarchie Molto chiare Teo Hernandez Primissima scelta Vi segnalo Fra i consigliati Entrambe Le mezzali Perché adesso Il Milan Gioca con un 4-3-3 E li sto vedendo Veramente Molto bene Si inseriscono Veramente tanto Lo Fucic E Reinders Ve li vado a consigliare Per questa prima Giornata di campionato Pulisic Da fuori ruolo Ovviamente Va schierato Con copertura Girui lo metterei comunque Ma Leao È il vero consigliato Dell'attacco rosso-nero Bene ragazzi Per questo video è tutto Ricordo di lasciare un like Se ancora non l'avete fatto E noi ci vediamo Con un nuovo contenuto A tema fantacalcio Ciao a tutti